Fitella imbantanata, l'architetto Verzi si prodiga con mani, piedi e dente a estrarla. Abbiamo chiamato il proprietario, speriamo che vieni. Sì, cosa sa che lui non si trova a fare. Chi ci sarebbe? Salvo! L'abbiamo liberato. C'èaskia forma. L'abbiamo liberato alla piano. L'abbiamo liberata anche con te studenti. Lei non permittano, nazione così tica come Che il camo di cible di corre? Adesso ci nuovi attico, Si chiama buona usc….